Siamo con Matteo Gallo, 3-2, ha vinto il Pescara, ha fatto una partita meravigliosa. Matteo, raccontaci come è andata la partita e il risultato. Secondo te se è meritato, se è giusto? La partita è finita 3-2, è pure giusto perché loro sono tanto bravi, però potevamo metterci più impegno. Ecco, invece ti stavo dicendo, da una sconfitta si impara sempre qualcosa. Che nei tornei si può sia vincere sia perdere, di questo non c'è preoccupazione. Ecco, questo è una ricorsa molto matura da parte tua. Allora, io Matteo ti auguro in bocca al lupo, comunque sei stato eletto ovviamente migliore in campo per tantissime parate. Forse andate a festeggiare comunque perché il secondo posto è vostro. Grazie mille.